Che si fa? Che si fa? Ci vorrebbe una novità. Mi permetta, sua maestà, ha una grande novità. Sono gli allegri, sono pavesi e da tutti sono contesi. Presto un poco, un poco ancora, di cattà, hanno il sapore, il biscotto e il dolce cuore. Con gli allegri in compagnia, è un friappo d'allegri. Allegri pavesi, biscotto, cacao e allegria.